Viviamo continui cambiamenti a rischiare ora sono soprattutto le piccole e medie imprese. Mario Ferraro, presidente Ance Benevento, commenta così lo stop alla cessione dei crediti per le imprese a partire dal super bonus e avverta. Purtroppo viviamo in continui cambiamenti. Siamo partiti con una norma, ci sono state correzioni, ricorrezioni. Il nostro mondo si trova in una condizione dove rischiano di fallire più di 25.000 imprese. Queste imprese sono dai due ai cinque addetti, non sono i grossi colossi. Si rischia il fallimento delle piccole e medie imprese. Poi Ferraro ribadisce, nel nostro settore serve programmazione. Il nostro settore va programmato. Noi vogliamo avere la certezza di risolvere il problema attuale ma soprattutto di avere la certezza delle cose per il prossimo futuro. E si dicono preoccupati anche i sindacati, soprattutto dal punto di vista occupazionale. Si rischia un duro colpo alla ripresa del settore, spiega il segretario regionale della filea CGL Campania, Vincenzo Maio. La preoccupazione forte che abbiamo è che si possa dare un duro colpo a quella ripresa che il settore dell'edilizia ha conosciuto negli ultimi due anni, soprattutto qui in Campania. Da fine 2020 abbiamo registrato una crescita esponenziale delle attività, addirittura facendo quasi raddoppiare il numero degli addetti. Però il blocco dei crediti, in qualche modo soprattutto negli ultimi mesi, sta ingenerando un blocco complessivo. Questo significherebbe aziende che chiudono e un'economia sostanzialmente che si blocca.